Grazie a tutti. Secondo che c'è un problema in fase di rialzativa? Sicuramente ci sono stati due posti al cuore, però ci sono state tante azioni che abbiamo fatto bene, non abbiamo concluso alla fine, però può sempre bene lavorare, perché abbiamo cambiato tutti i modi, 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 tutti i modi. Sicuramente sarà una vita molto difficile, perché ci serve a noi come giuratore, l'ambiente, tutti, per far capire che stiamo lavorando bene, a far vedere il gioco, quindi bisogna sottolineare su questa strada e migliorare le rialzazioni. Grazie.